I poliziotti del commissariato di polizia di Montevarchi hanno ritrovato nelle scorse ore in località Setona di Sopra, a San Pancrazio, frazione della comune di Bucine, grazie alla pronta segnalazione di un funzionario di polizia libero dal servizio, un armadietto blindato con alcuni fucili da caccia sul ciglio di una strada bianca, sotto alcuni rovi. L'armadietto era stato forzato e presentava ancora i dispositivi di ancoraggio al muro di velti, ovvero i tasselli. All'interno dell'armadietto blindato, i poliziotti del commissariato insieme ai colleghi della polizia scientifica di Arezzo hanno trovato quattro fucili da caccia, due blocchetti di assegni in bianco, una custodia in sintetico per gioielli, una stella a tre punte in metallo, un coltello a serramanico, una canna di fucile e diverse cartucce sia a palla che a piombo spezzato. Dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti del commissariato e dalla personale della scientifica della questuria di Arezzo, le armi da caccia risultano parte di un furto denunciato qualche giorno fa da un giovane valdarnesi. Le armi ed il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.